Un confronto fra comune, regione, ater, abitanti e commercianti della zona sul futuro dello spazio pubblico che si trova in via Marenzi, detto dell'ex disinfezione. Lo chiedono le firme, 350 raccolte in pochi giorni dal comitato Maddalena Vive. Proprio a fianco di quell'area già cementificata con parcheggi, case e supermarket dove una volta c'era il polmone verde del parco della Maddalena e chiediamo che quell'area ormai dismessa dell'ex dispensario, dell'ex disinfezione dell'USL possa essere riconvertita in uno spazio verde. Oggi le firme sono state presentate in municipio per essere protocollate. Nei prossimi giorni il comitato chiederà alla quinta circoscrizione la convocazione dell'assemblea pubblica prima dell'estate. Da tempo il comitato, non soddisfatto delle soluzioni scelte dall'amministrazione comunale per la zona, è sul piede di guerra. Il rione, sottolineano, ha fame di spazi verdi ma soprattutto, chiedono i componenti il comitato, c'è bisogno di consultare maggiormente chi vi abita. Se lei guarda da Largo Pestalozzi alla Maddalena, quel tratto di via Molino a Vento è praticamente chiuso da due grandi muraglie di case urbane che hanno bisogno di uno sfogo verde.